e ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale l'angolino di lori io ragazzi sono lorenzo da qui lori e questo è il mio angolino dove carico video di ogni tipo mi diverto facendo ogni cosa mi passa per la testa oggi ragazzi siamo qui nel menu delle app del mio mac allora usandolo oggi mi sono accorto di un piccolo easter egg nell'applicazione di mail allora vi spiego un pochettino oggi usandolo ho notato che qui non so ragazzi se voi lo vedete c'è una scritta ecco c'è una scritta allora oggi noi proviamo a zoomare questa scritta per vedere che cosa si riesce a leggere allora ok facciamo un attimo rega ok lo screen fatto passiamo ragazzi adesso allo screen ok adesso è troppo rimpicciolito vediamo un attimo di aumentarlo ok vedete questa scritta ragazzi io aspettate un attimo vediamo se è più piccolo riesco a leggere qualcosa apple park california state raga c'è scritto apple park california state quindi l'apple park che veramente ragazzi esiste nello stato di california adesso ragazzi mi sorge un dubbio spontaneo ma veramente l'apple park è in california? sì ragazzi allora eccoci qui su wikipedia ho cercato scusate ho cercato apple park allora vediamo apple park è una struttura architettonica situata a Cupertino nel cuore della Silicon Valley di proprietà di apple vabbè e qui c'eravamo arrivati si trova a Cupertino allora a questo punto ragazzi ah tra l'altro fungia anche la sedia aziendale buona bene ok è una cosa importante vabbè allora adesso la domanda mi è sorta spontanea ho detto ma quindi Cupertino si trova in California? ebbene ragazzi sì vedete qua si trova precisamente in California infatti Cupertino è una città degli Stati Uniti nella contea di Santa Clara in California quindi in teoria ragazzi apple quando ha creato l'icona delle email ha voluto ricordare forse con questo easter egg l'indirizzo della casa costruttrice quindi può essere ragazzi che in questo caso macOS Big Sur che è adesso montato su questo computer forse è stato proprio fatto a Cupertino e quindi ad apple park non so ragazzi come può essere andata tra l'altro mi è venuto anche in mente un'altra cosa che i nuovi macbook ragazzi hanno un processore che si chiama silicon un apple silicon e qua guarda un poco sempre apple park sta a silicon valley quindi boh raga non so che cosa pensare secondo voi questo è un secondo easter egg? non lo so però a me va bene lo stesso bene ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo mi piace ragazzi per l'easter egg che ho trovato quindi ho anche trovato l'indirizzo di apple park e niente ragazzi dall'angolino di lori per oggi è tutto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.